Lifetime in Re... Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale! Qui è sempre Uchikajimer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Spada! Siamo qui esattamente sotto la torrelotta, dovremmo entrare, dovremmo accedervi E niente perché ragazzi qui potrete ottenere tipo 0 parlando con qualcuno Allora vediamo, non mi ricordo dove l'avevo letta sta cosa Per cui, adesso non so Perché so che dovrebbe essere da queste parti il... Forse è qui la ragazza? No? Eccola qua! Eccolo qui tipo 0! Ok! Dovrete parlare con lei! Rom Eletro e la bollezza si dimezza Ah! Rom Eletro? Oh! E la bolletta si dimezza Ah no, che dico? Prima bisognerebbe far evolvere tipo 0 Ah! Ma tu sei Kirito, il campione! Ancora complimenti per la bellissima vittoria Per celebrare questo evento voglio affidarti questo mio Pokémon raro Questo Pokémon raro, tipo 0 E si riceve così tipo 0 I dati di tipo 0 sono stati inseriti nel Pokédex Ok Insieme a queste ROM Un mucchio di ROM Fai evolvere tipo 0 E fagli cambiare tipo in base alla ROM che gli dai Ok, abbiamo ottenuto praticamente tutte le ROM Adesso vediamo dove stanno Ecco qua Rom Folletto, Rom Buio, Rom Drago, Rom Ghiaccio, Rom Psico, Rom Erba Rom Acqua, Rom Fuoco, Rom Acciaio, Rom Scoleottero, Spettro Roccia, Terra, Veleno, Volante, Lotta Cioè tutte le abbiamo E mi ricordo che in... cos'era? Bianco e nero dovevamo cercarle le ROM E niente raga, questa era la breve guida per quanto riguarda tipo 0 Però per Silvalli non mi ricordo come si faceva l'otena, mi sembra che bisognava farlo salire di livello Poi andrò e vi farò vedere E niente Qua abbiamo la torrelotta E dovrei provare... vorrei provarla Sinceramente la torrelotta E approfitto di questo breve video per poterla provare No, questo è il negozio E... Ah... Vediamo cosa c'è Capsule abilità Tappo, ok Dino fuga L'altro palloncino Una roba chiara Retaluce Il bulbo Palla di neve No Che devo parlare? Ah ok, forse questa Beh, cosa posso fare per te? Voglio lottare Scegli le regole per... e i Pokémon per la lotta Allora, lotta in singolo Ehm... ah, ok Posso... Vabbè, provo con questi qua Però... Sono tutti scegli... Allora, uno Parteggio qua Due E... tre Termina Molto bene, prego, di qua Con il mio costume da Eevee Non temo rivali Pronti Via Pronti Via Come direbbe un grande YouTuber Tipo Joseph the Gamer Iniziamo bene Quello ci ha mandato un tipo acqua Un tipo acqua Eh, va bene Doppio calcio Protezione Vai, Sinderace Eh, no, però Salvaguardia E vabbè, poco efficace Ma... E chi se l'aspettava Un tipo acqua? Mmm... Toxitry City Ah, volevi farmi un dispetto Eh, overdrive Ah, ancora protezione Ah, mi ha fatto bull Vai, overdrive Non ti attaccare da solo Ah, cavolo Propposè Vai, adesso overdrive Di nuovo Bravissimo Bravissimo E uno è andato Ciccino È un tipo normale Vai, tossina E' iperavvelenato Vieni fuori ZACHAN Spada solenne Qui il fish Oh, c'è Un altro tipo acqua Attenzione Granocchio Però Suononda Vai È ancora Sgranocchio Minimizzato È diventato Piccolo Cascato Bello E va bene Rimettiamo Toxitry City Overdrive Oh Quante volte Attacchi Maledetto Quillfish Eh, sarà anche poco efficace Ma toro di shottarlo Adesso C'è la vita così Bam Arrostito E vabbè 2PL Continuiamo Sì ma Spero che si autocurino Soak No, ok Si curano da soli Ok Palla Infuocata Bam Gran fisico Meno male che siamo più veloci noi però No È veloce lui adesso Gol Vai Veleno erba Almeno lui ha un tipo Ha una squadra mista Ok L'ultimo Rapidash Tipo Folletto Proviamo A vedere quanto gli toglie Esclusiva Ha evitato l'attacco Nitro Carica Zacian Taglio maestoso Taglio maestoso Altri due Vediamo il terzo Complimenti Sei salito Al grado 2 Meriti una ricompensa Per rendere onore Al tuo nuovo grado Caramella rara E ho ottenuto i 3 punti PL Andate per essere venuta la torre lotta Spero di Speriamo di rivederti presto Ok Siamo saliti al grado 2 Mentre di qua Adesso cosa abbiamo Ah no Poi cosa abbiamo Invece Per caso Posso rendere Più forti i pokemon Di livello 100 Con un allenamento Pro Ah ma non ho nessuno Al 100 io E poi quando li porterò Dovrò a parlare con lui Molto Bene ragazzi Io direi che per oggi Possa essere tutto Questa era la torre lotta E abbiamo visto come ottenere Tipo 0 Io come sempre Vi invito A lasciare un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao belli